Buonasera e benvenuti in una nuova live. Benvenuti nel quiz. Chi risponde in maniera errata perderà un testicolo. Allora, mettiamo la musica come prima cosa. Allora, dove cazzo è? Allora, un attimo. Si gode. Si gode. Eccola la colonna sonora. Del quiz. Ve la beccate tutta. Nel culo. Benvenuti nel nuovo appuntamento. Nel quiz di Nico Vertici. Brutte bestie. Benvenuti. È molto semplice. Avrete sicuramente tutti già partecipato, ma... Vi rispiego le regole. Vi farò una domanda. E questa domanda avrà una risposta con un valore numerico. Potete rispondere in chat con... Hashtag. È il numero che secondo voi è la risposta esatta. Chi di voi arriva più vicino alla risposta esatta senza superarla? Vince. Ovviamente la prima risposta è quella che conta. Se cercate su Google, vengo a casa vostra a incurare la vostra gola. Ho 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 ho. Ok. La domanda è la seguente. Un ottimo che devo prima grattarmi il cazzo. Devo aprire il programma di merda. Per il quiz. Abbasso un po' la musica perché altrimenti non si sente un cazzo di niente. Ma no no. Ecco la nostra gola. Se ne ha presatto. Non cercate su Google brutti figli di puttana. Allora. Non tutti. Quelli che cercano su Google ovviamente sono un po' figli di puttana. Vediamo un po'. Una domanda che non si cringe. Benissimo. Questa mi piace perché è un video l'unica. E voi siete dei nerdacci sudici. Allora che giocano a Yu-Gi-Oh tutto il giorno. Io li ho visti al gruppo Telegram. A questo proposito. Potete sclamare Telegram per unirsi al gruppo più. Più satanico. Stavo scherzando. Allora. La domanda è la seguente. Piccolo brutto. Vi consacro. Vai con Dio Parker. Ok.